Il giorno della memoria 2021 è stato diverso da tutti gli altri a causa della pandemia da covid-19. In Toscana ogni due anni parte il treno della memoria con a bordo tanti studenti pronti a diventare i nuovi testimoni dell'olocausto ma quest'anno il viaggio è stato solo virtuale e le celebrazioni si sono tenute al cinema teatro La Compagnia a Firenze con ospiti sul palco e online. Se viaggiare adesso è impossibile il segnale che ha voluto lanciare la regione toscana è che comunque ricordare quanto accaduto nei campi di sterminio è fondamentale. Io credo moltissimo nella giornata della memoria e devo dire che ogni anno presenta sempre più maggiore attenzione perché sono loro che devono fare la campagna vaccinale come oggi noi parliamo del vaccino verso il covid-19 si deve creare un sistema di immunità a quelle idee super immunistiche a quelle idee fondate sulla competizione l'uomo dell'uomo che arrivavano poi a giustificare la distruzione dell'altro. Insomma quelle ideologie che purtroppo lo vediamo dalla rete da internet ancora nei giovani qualcuno cerca di farle circolare e che sono le idee fondate sul totalitarismo e sulla discriminazione raziale, etnica, politica non devono trovare nemmeno il minimo germoglio. Sul palco del teatro della Compagnia oltre al presidente Gianni c'erano Ugo Caffaz, inventore del treno della memoria toscano, l'assessora all'istruzione Alessandra Nardini, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, Camilla Brunelli e Luca Bravi del museo della deportazione di Prato. Notte di musica ebrea si sono fuse con aree zigane con Enrico Fink, l'orchestra multietnica di Arezzo e Alexian Group per raccontare due popoli che i nazisti volevano sterminare. Sì, coltivare e tutelare la memoria appunto io credo rappresenta il vaccino più potente che abbiamo contro i pericolosi squali di rigurgiti nazifascisti a cui assistiamo nel mondo e in Europa ma anche nel nostro paese qua in Toscana. Abbiamo il dovere di non abbassare la guardia ma anzi soprattutto di insegnare, far conoscere alle nuove generazioni ciò che è stato, quell'orrore, le pagine più vergognose della nostra storia, penso ad esempio allo sterminio delle ebrei, degli oppositori politici, dei disabili, degli omosessuali, dei testimoni di Geova, dei rom di Sinti, ma anche alla vergogna, alla macchia indelebile delle leggi razziali firmate proprio qua in Toscana nel 1938. E a proposito delle leggi razziali del 1938, il presidente Gianni ha raccontato un aspetto poco conosciuto e che lui ha avuto modo di conoscere proprio nella tenuta di San Rossore a Pisa, dove queste leggi furono firmate e dove Gianni nel 2018 tornò da presidente del Consiglio regionale per l'ottantesimo anniversario della firma da parte del re Vittorio Emanuele III. Dopo aver fatto il mio intervento in un Consiglio regionale in cui tutti gli interventi furono di spessore di pregio, alcuni operai mi dissero, presidente non sta scritto negli atti della storia ma sta scritto nel racconto popolare che ci siamo fatti. Lo sa dove firmò il re Vittorio Emanuele le leggi razziali? Vorremmo portarcelo. Io mi aspettavo di andare in uno dei tanti palazzi magnificenti della tenuta di San Rossore che è tenuta granducale dai tempi di Cosimo I, 450 anni fa, molto amata poi dai re, i presidenti della Repubblica, pensate a Gronchi e Opertini che ci passavano tante giornate e mi portarono nel mezzo alla foresta, su un ponticino, sopra un fosso, sopra un fiume che va poi in mare o in arno, non so nemmeno, mi dico ma dovete portare il palazzo? Dice no, volevamo farvi vedere proprio questo. Pensi che il re Vittorio Emanuele III quando fu avvertito da Mussolini che doveva firmare queste leggi le prese talmente sotto gamba, le considerava talmente un fastidio che fissò con i messi non nel palazzo ma era a caccia verso cui lui aveva tanta passione, non voleva perdere tempo e quindi se le fece portare qui e qui le sottoscritte sulla spalletta di un ponte. Le leggi razziali furono firmate dal re distrattamente su un ponte, una superficialità che la Toscana vuole combattere con la memoria. Gli anni passano ma non è mai troppo tardi, non è mai troppo tardi anche perché ahimè, ahimè come qualcuno diceva, nel corso degli anni si sono ripetute esperienze se non uguali certo molto simili, i paragoni sono sempre sbagliati però bisogna farli, quando nel Ruanda nel Ruanda gli Uto hanno ucciso in un mese e mezzo un milione di tuzzi a colpi di macete beh non facciamo il paragone però urliamo, diciamo che è una tragedia, una cosa terribile e così è avvenuto in altre parti, tuttora sta avvenendo, insomma quindi la memoria di tutto ci vuole, ci vuole tutto, soprattutto contro il razzismo, contro il credere che ci siano delle razze inferiori, giustamente Ritaliavi Montalcini dice le razze non esistono, i razzisti sì e quindi noi fino a che ce la facciamo continuiamo in questa attività. Per la comunità ebraica il 27 gennaio è un giorno importante ma non è una celebrazione ebraica è un momento in cui la società civile in generale ragiona su se stessa, su quello che è successo 80 anni fa e più fa in tutto il periodo che ha portato alla persecuzione, all'attentativo poi finalmente fisico di eliminazione del diverso. La comunità ebraica fornisce il proprio sostegno, cerca di testimoniare in qualche modo la memoria di quegli anni ma ovviamente è al fianco delle istituzioni come oggi, delle scuole, delle istituzioni pubbliche e private che lavorano sulla memoria collettiva di una società che deve lavorare appunto per comprendere i meccanismi che hanno portato a passare da società civile a barbarie in poco tempo. L'obiettivo è dunque ricordare e investire sulla memoria. Al teatro della compagnia e nelle scuole collegate si sono potute ascoltare le preziose testimonianze di Vera Vigevani Yarach che ha subito la persecuzione contro gli ebrei e la scomparsa della figlia desaparecida in Argentina, Enrico Pieri, superstita alla strage di Sant'Anna di Stazema, Kitty Brown, sopravvissuta ai Lager e Fiorentina d'adozione dal 1947 e le sorelle Andra e Tatiana Bucci scambiate per gemelle e per questo sopravvissute all'Olocausto. Nella seduta solenne del Consiglio regionale della Toscana per la giornata della memoria è stata consegnata una targa al figlio di Basilio Pompei, 103 anni, per l'esempio di vita del padre, deportato in un campo di prigionia polacco durante la Seconda Guerra Mondiale e che oggi vive in una RSA ed è stato tra i primi vaccinati anti-Covid. Solo chi conosce è in grado di evitare che quello che è accaduto non accada di nuovo e questo è l'impegno che noi vogliamo continuare a prenderci nel periodo, nel tempo in cui ci piaccia o non ci piaccia purtroppo i testimoni di quella terribile tragedia non ci saranno più, è necessario che le istituzioni investano sempre di più nella memoria, per questo ho chiesto di valutare la possibilità di fare in modo che il treno della memoria parta ogni anno. Lo so che è uno sforzo organizzativo enorme, che è un costo importante, ma una regione come la nostra non deve vivere la memoria, le risorse che si mettono a memoria come un costo ma come un grande investimento per il futuro dei nostri ragazzi. Al teatro la compagnia sono stati mostrati i lavori sulla memoria eseguiti dagli studenti toscani, su 49 elaborati ne sono stati scelti 4, Indifferenza e Umanità dell'Istituto Giovagnoli di Sansepolcro, Lettera di Lena dell'Istituto Marconi di Prato, La Storia di Ernest Lossa del Liceo Chini di Camaiore e Io sono il mio numero del Liceo Scientifico Foresi di Porto Ferraio, che ha ottenuto anche una menzione speciale. In attesa che la pandemia termini, il Presidente Gianni ha lanciato l'appuntamento per il prossimo treno della memoria. Sicuramente nel primo treno della memoria che ripartirà, con le condizioni pandemiche che lo permetteranno, io ci sarò, proprio perché ritengo questa un'iniziativa che non è merito mio, perché è stata ideata, mi sembra sia la undicesima edizione, da altri, ma la ritengo una delle cose più belle di cui come Regione Toscana ci dobbiamo vantare e quindi per dare questo segnale da Presidente della Regione alla prima iniziativa che avverrà, spero l'anno prossimo, sicuramente ci sarò. Grazie a tutti.